Dottor Moncada, buenos dias! Guardi, intanto ci tengo a dire che per noi è un grande onore che è un club prestigioso come la similanza interessata al nostro giocatore ma devo farle una premessa molto importante è che il prezzo del calciador è di 25 milioni di euro non un centesimo di meno Vi offriamo 5 milioni di euro Questo è umorismo italo-francese, molto divertente No, che poi tra l'altro è il giocatore avremmo potuto venderlo anche a 30-35 milioni se però abbiamo bisogno di monetizzare quindi 25 milioni il prezzo E allora 5 milioni e 100 euro Molto simpatico questo gioco, è la crisi, capisco No, però davvero, signor Moncada voi siete interessati al nostro giocatore? Certo, assolutamente No, quindi al prezzo? 5 milioni e 200 euro Signor Moncada, davvero, il prezzo è 25 milioni di euro 5 milioni e 300 euro 25 milioni di euro 5 milioni e 400 euro No 5 milioni e 500 euro No 5 milioni e 600 euro No 5 milioni e 700 euro No 24 milioni e 999 mila e 600 euro No 24 milioni e 999 mila e 700 euro Va bene così, va bene, va bene, va bene, va bene, vada via, ora basta, va bene Sì 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 Ce l'abbiamo fatta Abbiamo risparmiato 200 euro Un bel tesoretto per il prossimo acquisto